Grazie per questo invito, sono un po' in difficoltà perché in teoria io sarei stato il primo del pomeriggio, gli amici mi hanno detto fai prima di pranzo, quindi mi spiace a questi ragazzi che dovranno sentirmi, però in questi casi si dice la battuta dovete accontentarvi di quel che passa il convento, quindi questa è un po' la cosa che dico io. Allora può sembrare certamente strano che un monaco vada nelle aziende, parli alle aziende, lavori con le aziende e può anche sembrare strano parlare di business e spiritualità, perché? Perché per noi è difficile trovare il giusto rapporto tra queste tre parole, tra spiritualità, sociale e mercato. Perché? Perché noi nel mondo occidentale viviamo di una frattura, abbiamo separato queste tre parole e soprattutto per esempio alla spiritualità abbiamo dato un significato quasi molto, qualcosa che riguarda me stesso, in privato, la mia intimità che non ha nulla a che vedere con quello che faccio fuori. Il sociale invece solitamente lo associamo a quello che è chiamato per esempio il terzo settore, siamo qui in un ambiente che fa queste cose. Però il terzo settore poi è magari lasciato appunto al mondo delle cooperative, del sociale, di chi fa le cose fatte per gli altri, eccetera, eccetera. Ma soprattutto poi anche il termine mercato, facciamo fatica a legarlo per esempio al lavoro, perché al giorno d'oggi chi magari lavora nelle aziende o nelle imprese sa che uno può guadagnare di più magari giocando in borsa, nell'alta finanza, piuttosto che magari impegnarsi a fare bene il proprio lavoro. Quindi c'è bisogno, se volete, di trovare una nuova armonia e la nuova armonia dal mio punto di vista la possiamo trovare se diamo un significato diverso a queste tre parole. Proviamo. La prima, la spiritualità. La spiritualità per me è la capacità di abitare le domande, non di trovare le risposte. Noi appunto facciamo fatica a credere a Dio, però adesso quando abbiamo un problema andiamo subito con i nostri smartphone, digitiamo la cosa di cui abbiamo bisogno e i motori di ricerca in 0,1 secondo ci danno 350.000 risposte. Ecco, di fronte a 350.000 risposte. Che cos'è che fa la differenza? È appunto la domanda, è quello che io sto cercando. Se non è chiaro quello che io sto cercando, tutte le risposte saranno uguali. Ma questa domanda ha un connotato particolare, perché a me piace unire la parola, una domanda di senso. E anche qui le parole hanno il loro significato, sono importanti. Senso in italiano ha due accezioni, no? Se io guido la macchina, vedo un cartello con senso unico, vuol dire mi sta dando la direzione. Se io invece dico una cosa ha senso per me, vuol dire che ha significato per quello che sto facendo. Ecco, le domande di senso sono quelle domande che ci danno la direzione e il significato di quello che stiamo facendo. Per recuperare appunto, vivere questa armonia tra spiritualità sociale e mercato, dobbiamo anche recuperare secondo me l'idea, due cose. La prima è l'idea del senso dell'essere umano. Ecco, io ho fatto il liceo classico. Chi ha fatto il liceo classico qui? L'ora il liceo classico, grandi. Sapete che chi ha fatto il liceo classico ha il compito di salvare il mondo. Noi abbiamo questa grande... Lo dico perché devo giustificare i miei cinque anni. L'essere umano... Prendo anche qui, mi faccio prima il latino. La parola, mi piace molto questa parola, persona. E più volte è ricorsa in questa mattinata, no? Persona deriva dal latino per sonare. Ha a che fare con la musica, col rimbombare, col suonare forte. Ecco, noi siamo persone se vibriamo di qualcosa dentro di noi, ma soprattutto se riusciamo a far vibrare qualcosa all'esterno di noi. Ma poi c'è un'altra parola interessante dal greco, prosopa, che vuol dire la maschera. Erano quelle maschere che nell'antico teatro greco, appunto, gli attori si mettevano per far riconoscere il personaggio e anche, soprattutto, per far arrivare la voce. Non c'erano i microfoni a quel tempo, no? Ecco, noi, prendendo questo spunto da questo tema di maschera, noi, se voi pensiamo ogni volta che noi ci alziamo il mattino e arriviamo a sera, in fondo mettiamo e togliamo varie maschere o vari ruoli. Siamo magari, non so, papà, mamme, single, monaci, poi andiamo a scuola, siamo insegnanti, andiamo al lavoro, siamo imprenditori, siamo medici, siamo studenti. Poi, non so, il pomeriggio, o magari quelli della mia età, si iscrivono a qualche corso, diventano studenti. La sera andiamo in palestra e tutti ci sentiamo degli atleti, no? Ecco, mettiamo tante maschere, le mettiamo e le togliamo. Ecco, anche qui una domanda. Chiediamoci, ma queste maschere, è un qualcosa che nasconde quello che veramente siamo? Oppure è un qualcosa, appunto, che fa risuonare quello che siamo? Che amplifica quello che siamo? Che permette, visto che ci sono i ragazzi che fanno greco, la eudaimonia, cioè la fioritura di quello che noi veramente abbiamo dentro di noi. E ciò che deve risuonare è proprio questo, corpo, mente e spirito. Noi siamo fatti così, abbiamo un corpo, una mente e uno spirito. E dobbiamo fare in modo che queste tre dimensioni siano nutrite in maniera positiva. Dicevo che l'altra cosa da recuperare è un po' il senso del lavoro. Perché? Ve lo dico prima con un mio linguaggio, e poi cercherò di tradurlo in un linguaggio un po' più laico. La regola a cui appartengo, a un certo punto, dice il monaco che lavora deve trattare gli strumenti e i beni del monastero con la stessa reverenza dovuta ai vasi sacri dell'altare. Mette sullo stesso piano il monaco che lavora con il prete che dice la messa. Anche qui la messa tecnicamente si chiama Eucaristia e anche qui il greco ci aiuta. Eucaristia è una parola che deriva dal verbo greco eucarizzo che vuol dire appunto rendere grazie. Quanti di noi hanno la consapevolezza che il lavoro è uno strumento per rendere grazie alla vita e a Dio se ci crediamo. Quindi per esempio, concretamente, il lunedì non è il giorno più sfigato della settimana, ok? Perché toglie tempo e spazio alle cose che danno senso e significato alla mia vita che io le faccio il sabato e la domenica. Ma il lunedì è il giorno in cui io ho uno strumento per far risuonare qualcosa durante la mia settimana. Che poi il lunedì, ancora prima del lunedì c'è la domenica sera che di solito è la serata della pizza col trancio perché uno è talmente abbattuto che il giorno dopo deve andare a scuola o al lavoro che se non ha neanche voglia di cucinare va al trancio e si mangia la pizza, no? Ok, lo dico in termini più laici. Il luogo di lavoro diventa appunto un luogo educativo perché ci passiamo tante ore nei nostri luoghi di lavoro. Dobbiamo chiederci allora a cosa io voglio educare le persone che sono con me. Dicevo prima, il sociale riguarda appunto noi abbiamo in solito il terzo settore ma la vera idea di sociale è il bene comune. Io veramente sono al servizio del bene comune che è un qualcosa che va oltre il bene privato e il bene pubblico. anzi dà un calore, un colore nuovo al bene privato, al bene pubblico se io appunto recupero questa idea di sociale come bene comune. Infine, il terzo, lavoro come luogo politico nel senso più bello del termine della politica. Perché il lavoro è un luogo politico? Perché dietro ogni prodotto che facciamo o ogni servizio che eroghiamo ci sta un'idea di essere umano e ci sta una visione di mondo. Quindi noi come cittadini e come consumatori ogni volta che facciamo un acquisto anche inconsapevolmente noi stiamo sostenendo una certa visione di essere umano e anche di mondo. Vado verso la fine con un augurio e una conclusione. L'augurio è questo. Io appunto partengo a quella grande tradizione che voi conoscete come ora e te labora ma ve l'hanno venduta un po' male. Il vero motto è questo. Ora e te legge e te labora. Prega e studia e lavora. Dove la parola più importante non è né la preghiera, né lo studio, né il lavoro ma è quella 8. Cioè tieni assieme queste tre dimensioni. Dicevo prima la spiritualità questa capacità di appunto farsi le domande. Lo studio è importante perché noi diventiamo le parole che diciamo e ascoltiamo. Quindi mi rivolgo a questi ragazzi studiate bene perché noi, la mia generazione ha bisogno che qualcuno ci racconti un'altra storia del mondo che ci narri e ci descriva le cose con altre parole, con altri linguaggi perché i nostri linguaggi fanno fatica. Ok? Quindi studiate bene. Quindi la spiritualità dona il senso. Lo studio dona la profondità e il lavoro appunto dona la concretezza perché un pensiero che non diventa azione rimane sterile ma anche un'azione che non ha dietro un bel pensiero è priva di senso, è priva di significato e quindi ci crea stress, ci crea ansia ci crea fatica inutile. Ho usato apposta il termine dona, il dono perché secondo me il dono è una di quelle dimensioni che dobbiamo riscoprire. Siamo sempre troppo abituati forse a parlare solo di diritti e di doveri che sono sacrosanti e dobbiamo tenerli sempre presenti ma ci manca la dimensione del dono. Che cosa intendo per dono? Ve la racconto con una piccola storiellina che mi piace ogni tanto anche così raccontare quando faccio della formazione. C'è un padre che ha tre figli è un padre anziano malato e quindi decide di fare testamento e quando fa testamento dice al mio primo figlio lascerò metà del mio patrimonio al secondo figlio lascerò un quarto del mio patrimonio e al terzo figlio lascerò un sesto del mio patrimonio. Mette via la busta dopo un po' di tempo questo padre muore. I figli prendono la busta e scoprono che il patrimonio del papà è composto da 11 cammelli. E quindi cosa succede? Litigano perché metà di 11 fa qualcuno che sa fare il conto c'è in sala, sì. a 5 e mezzo quindi ditelo vedi colpa tua dovevi stare più attento segui il papà eccetera eccetera e continuano a litigare. A un certo punto nel villaggio passa un signore che ha il suo cammello sente questi rumori e allora decide di entrare in questa casa e chiede ma cosa succede che sento tutto questo frambusto? Guarda guarda qui il nostro padre è anziano non capiva niente ha sbagliato a fare i conti eccetera eccetera e lui allora legge il testamento e poi dice va bene vi dono il mio cammello i cammelli quindi diventano 12 metà sono 6 un quarto sono è già più difficile 12 diviso 4 fa 3 un sesto 2 quindi 6 più 3 9 più 2 11 quell'altro si riprende il suo cammello e se ne va allora chi dona chi dona non perde nulla e se rimaniamo legati a certe logiche i conti non torneranno più quindi l'augurio che vi faccio e ci facciamo a vicenda è proprio questo di trovare ogni giorno nella nostra vita quel cammello che ci permette di far tornare i conti nella nostra vita e nella vita di chi ci circonda grazie